In Lombardia più di uno studente su quattro è vittima di bullismo. Un dato allarmante è quello fornito da Regione che ha effettuato un monitoraggio su studenti e studentesse di scuole elementari, medie e superiori tra maggio e giugno 2023. A spaventare è anche il dato dei cosiddetti bulli. Più del 17% degli studenti ha dichiarato di aver preso parte attivamente a episodi di bullismo, ossia un ragazzo su cinque. Se guardiamo al cyberbullismo, ossia al bullismo in rete, l'8% di ragazzi e ragazze ne è vittima secondo il monitoraggio, mentre il 7% dei partecipanti ha dichiarato di essere stato l'autore di queste azioni violente sul web o sui social. Se prima questi fenomeni erano più spesso occasionali, sottolineano dalla Regione, ora sono sempre più sistematici. Per contrastare bullismo e cyberbullismo servono percorsi educativi e serve partire sin da piccoli, proprio dai bambini delle quinte elementari e partito il comune di Como, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Il sindaco Rapinese e il vice sindaco Roperto hanno consegnato a mano a 600 bambini di 20 plessi un libro sulla consapevolezza dell'uso dei social. Contro bullismo e cyberbullismo, anche la presentazione del progetto di Regione Lombardia Coltivare Te, realizzato insieme all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Polizia di Stato. Il teatro e la performance teatrale come strumento educativo per favorire il confronto, aiutare la vittima e recuperare anche il bullo. Abbiamo fortemente voluto organizzare questo appuntamento, non solo per la ricorrenza della giornata nazionale sul bullismo, ma è un'attività che noi portiamo sul territorio, in modo particolare tra gli studenti e gli adolescenti nelle scuole, tutti i giorni dell'anno. Il bullismo è un'emergenza nell'emergenza degli adolescenti, parlarne con loro e coinvolgerli in una modalità completamente innovativa e anche teatralizzata è un qualcosa che li coinvolge sempre di più, li colpisce. Io penso che la scuola da sola non possa fare tutto perché ci vuole un patto anche in modo particolare con la famiglia. Non solo bullismo e cyberbullismo, a preoccupare c'è anche una sempre maggiore prepotenza giovanile che sempre più spesso si trasforma in reato. Proprio ieri accommo alcuni episodi violenti che hanno visto come protagonisti i giovani ragazzi. A Camerlata tre giovanissimi minorenni hanno picchiato e rapinato un diciassettenne in pieno giorno. Qui comandiamo noi, hanno detto i tre alla vittima, come arriva a dire un senso di potere e impunità. Solo diciottenni, i ragazzi fermati dai carabinieri a Cantù, accusati di aver saccheggiato bar e negozi e di aver picchiato i militari dell'arma. E poi gli episodi nelle scuole con l'insegnante accoltellata a Varese da uno studente diciassettenne e l'episodio di ieri nel milanese dove uno studente sedicenne è stato ferito da un diciottenne dopo le lezioni.